buonasera amici questa sera head the ball 2 io sono papi ciò che rimo a questo gioco meraviglioso cominciamo a ricevere tutti i premi hot food questo chi è il matador cavalli questo è il tipo strano ma vuoi vedere chi è edinson ma va siamo venticinquesimi ma siamo proprio scesi da ricciatello però io vi voglio dire una cosa cinque posizioni perse andiamo a fare quelle sfide statino un pochettino ok c'abbiamo un obiettivo sarà buggato l'altra una ora un altro ciao addio 20 diamanti 20 diamanti 25 ore e 56 diventeri ma va possiamo comprare un sacco di ghiacci possiamo cambiare 20 ghiacci andiamo a migliorare un pochettino qualche personaggio allora va mettiamo i poteri che i portieri sono viti quindi facciamo e possiamo mettere c'è bottone mettiamo allora che possiamo diventare grandi abbiamo ghiaccio possa diventare grandi e paroni colonati importa non teniamo portiere teniamo solo una porta bassa un altro obiettivo che si è buggato come sempre non lo so questo forse posso dire qui e lo so che può salire 5 0 di 3 ha finito questo qua verde il buono non so vediamo che la squadra ora che ci sta abbiamo aumentato finalmente prima eravamo in oro sempre in oro andiamo a fare qualche gara dobbiamo vincere qualche parte allora guarda ci sta uno degli emirati egitto spagna italia serbia italia poi croazia emirati arabi regno unito germania francia germania germania russia prima era che c'era un croato non lo teniamo più se n'è andato ma non lo so qui ora quello che dico io andiamo sui personaggi e mettiamo natador aspetta questo chi è possiamo questo lo possiamo potenziare mettiamolo allora 15 mila monete abbiamo sprecato abbiamo preso 25 mila monete buttate 24 30 mila ce l'abbiamo non ci abbiamo legato io vorrei fare le gare queste qui giochiamo no no qui voglio fare le gare qui hai la carriera quando finisce questo personaggio andiamo a fare i normali allora abbiamo fatto due vittorie una pareggio una sconfitta l'ultima volta non avevamo vittorie noi abbiamo un po' giocato per fare così italia romania la vero romeno romeno 23 c'ha 3b non abbiamo 22 però poi si appartino l'italia romania però questo qua la vita che siamo vittorie noi c'è una zero hai buttato il ghiaccio una zero traversore volevi giorginio una zero giorginio poi va radu verratti vai chiellini buonaventura non la prende la palla grande gg 2 a 0 ed è chiellini che in realtà se n'è andato a 2 a 0 3 a 0 segnato per ratti le ho sfruttate ammostrutto e 3 per i potenziamenti devo dire la verità 3 a 0 segnato per ratti no no tre una romania ha segnato rad l'ex portiere della cremonese che non sarà giocato che ha giocato pure nell'inter radu cremonese inter appena lo so più non bisogna la crema segnalo vittoria radu sì immobile la magia di chiesa poi mobile ciro immobile napoli juve 5 a 1 inter milano 5 a 1 napoli juve 5 a 1 inter milano 5 a 1 dare un po di calci in faccia che dici ce l'ho un po d'estate boh ma sto vincendo così facile se uno lo sto massacrando mi dispiace mi fa pure un po pena ma sei a 1 sotto vedi massacro lo sto prendendo in giro che gol fatelo vedere alle scuole calcio questo con ragazzi fatelo vedere alle scuole di calcio questo gol per favore fin atta 2 a partita che poi sei qual'altra partita fin dott'a 2 a 30 serenitana e che palle queste migliorare ogni volta dobbiamo ovviamente con quello subito di voi condivido condivido no perché non si può sono una carriera non si può ci credo allora i ragazzi con lo subito di proprio ovviamente si mette a guardare a lorenzo dai sopra la registrazione gioca partita vai fratello vai non mi fai paura non mi fai paura vai stiamo salendo in classifica no penso di no abbiamo fatto due tre vittorie con parigi questo proprio fatto tre vittorie papi fab come si chiama fabre secondo me si fa felice ma non è un gioco da vedete sono morti io perciò ho fatto gioco con un gol di vantaggio con poco ne capite perdono il reto ma zero vedi questa melma mi voleva calciare questa melma e sotto ne va va e sono tre ma non so giocare non so io che so forte 4 mi sta calciando mi sta calciando il cladino mi voleva calciare ci risparmi i 5 palloni tutti i palloni no 4 a 1 perché non abbiamo la porta piccola i portieri perché va di porta piccola ne abbiamo solo una i portieri sono finiti quindi 4 a 2 napoli chi vuoi finire le coppie dei rigori no no è durata per un attimo papi alta non è durata niente poi va a fare no allora cerchiamo con un po' di intelligenza fratello perché siamo vediamo no no levati no che fortuna entra in porta entra in porta 4 a 0 4 a 4 come è forte fabbri adesso la capo di fortuna no porco mondo vantaggio fabrizio a stadio di papi no vuoi dire si no non è entrata no è finita no è persa non ci credo 4 a 0 a 4 a 5 che partita idiota che per ragazzi io mi ricordo che una volta papi stava vincendo 3 a 0 a maraca verso 7 a 3 non ci credo non si può perdere una titta così già cosa è più spazio verso 25 la mente una partita ma non ci credo non si può perdere papi mare no non è mare papi pachi pachi come quello di amici dell'anno scorso la fine a 0 papi pachi Vediamo se vince Paki Quello lì di pianura di Amici Oppure vince loro Vantaggio Paki Vantaggio Paki a storia di Pavi No 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 però e dai Pavi 0-2 Paki A 0-3 E che fortuna c'è questo Però a voi A me che se non arrivi le partite Che puoi tirare quante volte vuoi 0-4 Napoli e Milano Mi danno Napoli Papi Paki Papi 0-4 Paki 0-5 0-5 Non c'è partita 0-5 Non vedi adesso partita No Sì No Non ci credo 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 che non ho segnato neanche adesso No Mi ha sardita entrambi E muoviti ripigliati Entra in porta Entra la palla in porta Per la mese E una E falla entra A meno una 1-5 No 1-6 Ajax Napoli Stai vincendo 5-1 Questo spregava una cosa così Ma che idiota 1-7 1-7 Ciao Papi Tu una volta stai vincendo Però 4-1 Questa alla fine è spregato con la palla 1-7 Che partita di Melma contro Paki Ragazzi abbiamo salito No Aspetta allora Facciamo così Nempiamo Non rimpiamo C'abbiamo 19 barre C'abbiamo 19 cose di energia No Non abbiamo giocatore Toggi Metti un altro giocatore Toggi Mettiamo Edinson Metti a questo qua Selezionalo Potenzialo Ce l'abbiamo Non ce l'abbiamo Però ce l'abbiamo i diamanti Mi sa Sì per uno E che lo spiega a fare No Che spiega i diamanti Così ci serve il ghiaccio Dai giochiamo Ma non conna mia Ma perché non fai capire niente Ma stavolta giochiamo normale Rimpiamo pure il cesso dei palloni Ci vado Vittor Un peggio e due sconfitte Questo è scarso Papi uccello Sì per una pezza di più Papi uccello No papi Stai già per concellarlo Papi 1 a 0 1 a 0 Papi 1 a 0 Prima cosa devo fare Sempre così Non ci stai niente da qua Così li faccio abilire Capi? 2 a 0 Perché sta scarse Ma poi Tu avevo detto che era scarso Però tira molto forte l'uccello E' scarso Però tira molto forte Ma va tira molto forte Come tira forte uccello Poi va uccello Uccello Capotinano in porta Poi papi Uccello Papi Grande gollo Papi 3 a 0 uccello Ottimo Poi va con l'uccello Con la palla di papi 4 a 0 Sei papi Sei papi Stai pensando che io Qualsiasi palla tocco segno Infatti così sta succedendo Vedi Poi va uccello Uccello Non si arrendevole 4 a 1 Papi 5 a 0 Lo sto massacrando Partita a senso unico Senso unico veramente Poi va uccello Papi che lo blocca Uccello Vedi perché non faccio i fattivi Perché? 5 a 1 La Poli Juve E Inter Milan Perché ho provato A dagli cazzotti Vada di uccello Che può segnare 6 a 1 Perché lo volevo far male Io lo volevo dare l'estate Perciò Uccello Uccello Non so niente anche così Che non riesco a colpirlo Uccello Goal Autogoll Atalanta Salernitana Traversa E a papi con la palestra Ce l'avevo reso niente Un'altra volta Che io provo a dargli una testata E un'altra volta che piglio il golo Ma come se la fa? 8 a 3 Io non ci devo proprio provare A fare queste testate Perché io sempre golo Ogni volta che faccio una testata 8 a 4 A 3 secondi Però è quasi finita E l'uccello Con le 8 a 5 Ciao fratello Ciao 8 a 4 papi Partita finita Stadio di papi 8 a 4 C'è una sola squadra in campo Quattro abricità o no? No Non fa abricità? Ah ma inizia Ma sa Anche una squadra Lui Ti ho detto che? Io adesso vado a fare Uuuu Divino 23 Uuuu Ottimo 10 diamanti Grazie Andiamo a giocare Perché io adesso Con questa vittoria Vabbè 5 gol Non lo dobbiamo fare Per impiegare il censo Ci abbiamo 3 vittoria Adesso in questa vittoria Facciamo 5 gol La vittoria E ce ne andiamo No Sì Ma facciamo un'altra partite No 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 Abbiamo questo Ne vinto a 4 Ma facciamo un'altra Ma questo è forte Già si vedeva Ma ride Che bugherità fa Ma questo le vince tutte Vedi? Questo tutti i contrasti Vince Ma forse Le mossa che fa Le mossa che fa Sti imbecile Che mi fai nervosi Ma guarda Questo le vince Tutti i contrasti È troppo forte Quando fa così Ci mette contro Vedi Ci mette contro Uno che le piglia Tutte quante 1 a 5 Ne piglia tutte Questo Perché questo Ma la Bulgaria È piccola Che c'entra Ma questo C'ha tutta le superpotenze Vedi Non si può giocare Contra questo È bello Perché ci fa giocare Eh non lo so Perché l'ha fatto Vedi che le piglia Tutti quanti Lui i contrasti Salta più in alto Tira più forte Perché ci fa giocare Contra questo Non ci devi far giocare Contra quelli Che sono troppo più forti Ma non più forte Perché sa giocare meglio Perché c'ha più potenze Vedi Tira più forte Tira più in alto Vedi Vince i contrasti 2 a 8 C'è l'unità N'Atalanta Però in casa Razzarne Guarda Vada quando salta Questo E le piglia Tutte quante Lui Ciao Eh la partita Già persa in partenza Ce la stiamo giocando Giusto per salvare la faccia Guarda questo Che sai dire Che c'ha Eh no Vedi che li viotticonti lui Con pelle testa Perché li viotticonti lui Salta sempre più in alto Perché va La schiena è più grande Ma che salta più in alto E poi va Vi ha potenziato Eh via Le dita alle spalle Ma zicca di in tuo muro Bam Ah finisci presto Sto partire Ma domani Facciamo l'ultima Dopo gli arriva Voglio finire Una vittoria Ma ma nessun'ultima Manca in 5 secondi Papi sta perdendo A tutti C'è la tre Non ci puoi pagare Ma cosa cambiamo La skin Mannaccia papi Non puoi perdere Contra questo Si può però La Bulgaria è piccola È un 120 Di dare 50 volte La Bulgaria Allora Allora andiamo Allora andiamo alla Allora andiamo alla Allora andiamo alla Sto parlando che sto pensando Per esempio Questo burgano è italiano Che però si trova in Bulgaria Quindi lui ti dice la località Dove si trova Ma non nel paese che è Ma questo? Questo non è meteorizzato Eh ma non possiamo Ammigliarlo Eh gioca ma vediamo me Eh no che gioca Non c'ha 0 24 e 8 Questo 24 e 8 Ma gioca Non usciranno le carte Ci possiamo mettere qualche cosa Per farlo un po' più bellino Meno brutto Che ci possiamo mettere Questo? Esclusivo Ma non ce ne è più cosa dice Ma tu stai male E te le scarpe? Eh equipaggiato Questo già ce l'ha questa scarpe Ci possiamo mettere un cappellino Ti faci questo Questa cosa è più bellina no? Non ce ne è più cosa dice Niente Si ve lo ho guardato Gli occhiali Guarda questo che bello Posso mettere questo? No mettici questo Mettiamoci il pagliaccio No il pagliaccio lo odio Perché lo odio? Dici questo e ti faccio Vai che ce l'abbiamo levato No l'hai levato E lo leviamo Andiamo a giocare Vai Ultima partita ragazzi No lascia l'ultima Diciamo questa e la chiudiamo No ma no Non me ne importa Ma vado vittoria qua E tre sconvita Madonna perché vuoi? Papi mirati arabi uniti Italia mirati arabi uniti Italia mirati arabi uniti In Italia con Giorginio Che insiste Che cattino C'è fatto grande E ha pure sprecato Italia 1 0 E mirati arabi uniti Ma questo non ce la fa proprio Fratello Siamo in finale mondiale Fratello questo non ce la fa proprio Non ce la fa proprio questo Mi devi credere Non riesce a fare un pallonetto Guarda Madonna chi mi hai fatto prendere No ma chi mi hai fatto prendere Questo non ce la fa proprio Italia Non ce la fa tirare Non riesce a fare un pallonetto Non ce la fa No mai più Chiesa vuole 2 a 0 Alta Finale degli Chiesa 2 a 0 Finale dei mondiali Italia mirati arabi Se vinciamo contro la questione Abita a Dubai Vabbè se vinciamo contro la questione È un miracolo Perché questo non ce la fa fare un pallonetto Abita qua Vedi che non ce la fa fare un pallonetto Abita su qua E dei mirati arabi Forse abita a Dubai Abita 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 La morte Non riesco a giocare E pareggia per riega Abita Non ce la fa neanche a tirare a terra Questo neanche il tiro a terra riesce a fare Madonna Che è questo che ha grande parata Del portino degli amirati abiliti Poi va chiesa Non è finita Giorginio Goal Giorginio 3 a 2 Non si sa come lo faccio Le bolle Grande cicione qui Buonaventura Entra 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 Alpa E mirati No Se teneva la forza 3 a 3 Facciamo un pareggio Miracolo Poi va Berardi Palla buona Berardi Che non tira No Grande parata Perardi Berardi 3 2 1 E finisce il pareggio Poteva andare peggio Si Fai il rematch Mamma mia Lo cambio subito questo scarsone Ma immediatamente lo cambio Scalzare C'è una partita Una partita da buttata Se c'avevamo uno che giocava un po' Vabbiamo che ce l'ha buttata Doppio gol 3 diamanti Papà Ora giochiamo contro Papà Ora giochiamo contro i giocatori di serie A Questo è bravo Questo chi è? Boh Berardi Il super potere Dobbiamo 18.000 No Ma abbiamo Ma che ce l'ha ma fa Però questo c'ha 20 Non è forte Perché mi fai buttare i soldi Questo c'ha 20 Ma è arrivato a 22 Ma non li pigliare questi qua Giochiamo con quelli più forti Questo è 26 Questo fa schifo proprio E questo è 25 e 8 Giochiamo con questo 26 Papà Lo possiamo potenziare Potenzia 30.000 100.000 Ce l'abbiamo Non ce l'abbiamo Ciao fratello Papà Ora però dobbiamo giocare con i giocatori di serie A Eh l'ultima partita vai Questa è l'ultima Continua Papà soffrendo di super potere Come soffrendo di super potere? Vito al ghiaccio Grazie Già di sì Papà Papà giochiamo contro i giocatori di serie A Questo papà Questo è 25 Questo è quello di prima Papà Questo è il Leao Papi contro Leao Non ce l'abbiamo più il ghiaccio Ce l'abbiamo per tre No papà Costano tre gemme Papà Stai giochendo contro leao Papi uno Zero Leao Che fortuna Io ho provato in volontaria A premere Gli ho dato il ghiaccio Ah tre gemme per una sola Per una sola Tre gemme Eh Madonna l'abbiamo più il ghiaccio Madonna l'avevo pure presa Papà Stai giochendo contro leao Papi 2 Uno Leao Leao Rafa se ne va Rafa se ne va Rafa Bello Grande pallonetto Papi 3 Uno Leao Grande Sto vincendo Papi 3 Uno Rafa Leao Ciccarelli papi Uno Ciccarelli papi E' una rafa leao Vai Leao Leao Goal 4 a 1 papi Leao non si sta facendo Proprio vedere Gran gol Madonna Questa non la voglio perdere Ho detto che era scarso Questa è scarso Non ce la fa proprio Perché l'ha preso Sto decine No 4 a 2 E' arrivato il gol di rafa leao Nel milan 5 a 2 napoli Che hai fatto Hai trovato il gigante Hai trovato il gigante Hai trovato il gigante 6 a 2 Grande paleatone Questa la condividiamo E ci andiamo a fare la doccia Grazie Adelo No Un altro entra No Si Che gol 7 a 2 Papà 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 Stiamo battendo Leao 7 a 3 Non c'è gli piace Papi 7 a 3 Leao Bella Entra Che bel gol Vai Vai Vieni proprio qua Oh Oh No 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 Un secondo Ciao Papà Abbiamo vinto Contra Leao Leao l'abbiamo Abbiamo vinto L'abbiamo massacrato Che posizione Che eravamo arrivati a 25 Sembra 18 Chi è Leao Abbiamo battuto Quello che giocava Leao Condividi Condividi Allora condividiamo Ora giocheremo Una delle partite Andiamocene adesso Abbiamo vinto Andiamocene adesso Abbiamo vinto Allora facciamo l'ultima Vinciamo Perdiamo Facciamo l'ultima Andiamo a vedere Continua Aspetta Usa la bevanda Un'altra Un'altra bevanda Prochi di qua Aspetta Andiamoci a mettere No Ora giochiamo Papi Lautaro Martínez Lo posso comprare Lo posso comprare Un ghiaccio A tre Papà Gioca a destra Lo posso comprare Un ghiaccio a tre Papà Papi Lautaro Martínez Papi 1 a 0 Golla Lautaro Martínez 0 a 1 Papi Ma questo è uno di quei deficienti Che danno sempre i calci Guarda Perché non ce l'ho visto Perché Oh 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 Volavi Congela la palla E Lautaro Martínez La palla sta giocando Contro Lautaro Martínez Vieni Vieni Lautaro C'è Lautaro E' il capo Cannoliere Mi pare che c'ha 10 gollo Con il numero 10 di maglia Ho visto contro il Bologna Lo stiamo vincendo Fratello Vieni 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 Giùve Napoli No Sì Vieni Vieni Cioè vabbè Offri tutti i superpoteri Vieni Olevi Gol 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 Martínez Saltala prendere Fratello Succede Si perde Si vince Si perde Saltala No 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 Non l'ha segnato Non ci credo Non l'ha segnato Non l'ha segnato Il Demeter Non l'ha segnato Il Demeter Il Demeter No No Lautaro Uno due papi Vantaggio però Ancora di papi Che diventa grande Non l'ha segnato Non l'ha segnato Vuole pareggiare Lautaro Maltire Uno a tre L'ho mantenuto io fermo Mentre la palentra Mi importa Napoli Uno a tre Inter Lautaro No Lautaro Non l'ha segnato Non l'ha segnato No No Non l'ha segnato Non l'ha segnato Non l'ha segnato No Vabbè A tre secondi Due secondi Uno Ciao Fratello E uno Grande vittoria Partita su Guarda come stiamo scalando Eravamo 25 Siamo a 15 Ok Allora ora ci chiediamo Contro Simen Basta Abbiamo fatto due vittorie No Contro Simen Andiamocene con due vittorie Solo contro Simen Allora io direi Condividiamo anche questa Perché abbiamo fatto Una grande vittoria C'è papà Soltanto tra uno Contra Lautaro Cambiamo personaggio Vabbè Ma cambiamo anche i poteri Però Aspetta Mettiamo anche questo Ok 25 Mettiamo pure solo i poteri Possiamo comprare Non c'abbiamo più il ghiaccio Sì papà Possiamo comprare 20 E compro compro Se vuoi Vuoi comprare Non c'è comprare 10 Posso comprare anche la porta bassa La porta alta Se vuoi 10 Porta bassa Porta bassa Porta bassa Mi piace Ok Ora mettiamo Portieri non li possiamo comprare Che? Portieri E vabbè Ma che li comprare fa? Vabbè Allora passiamo Di grana Ce ne abbiamo solo uno Ok Mettiamo la porta bassa Ok E mettiamo poi anche Facciamo fare le visibili Va? Ma io non lo uso questo qui Vedete che lo metto Perché non lo uso No che fai? Che hai tolto Ah la porta bassa No La porta bassa Dobbiamo mettere Al posto di questo Al posto di questo Eccolo qua Vabbè Poi basta Ma questo è stanco Papà Usa la bevanda Vai usa 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 Bevi bevi Tutto quanto Vai energia piena Vai Che c'è prima il pieno Andiamo a mincere Quest'ultima partita Se la perdiamo Non fa niente ragazzi Noi ci proviamo Papà si menna Questo ci dà uno 36 Vedete 85 di potenza Non può Dacci uno scarso 24 e ha fatto 5 vittorie Cavolo Papà è serbo Chi dà la serbo Questa la perdiamo Per colpa tua C'avevamo tre vittorie Questa la perdiamo Per colpa tua Eh vabbè No No Gol Grandioso gol Papi uno zero Osimè Non te la prendere Fratello Non te la prendere Fratello Sì qua ne perderà Una adesso Papi Osimè Osimè Papi No Papà Non abbiamo Non abbiamo Ghiaccio Ah Spera 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 Sotto Sopra Sì Grandgonna Grandgonna 54 secondi Papà stiamo battendo Semen Fratello qua ce la giocheremo L'ultimo sangue Mi credi Guarda qui Palla avanti Bello Ma entra e porta Entra Attraverso Sì Grandgonna Papi me Sero Semen Fratello stiamo giocando A mostro Non lo voglio dire Ma questo ha trovato Pane verso lì Italia 3-0 Serbia Guarda hai portato la palla avanti Vabbè il serbo L'hanno dato Via Che gol Lo stiamo massacrando Papà stu qua l'aveva vinta tutte L'aveva vinta tutte Perché non aveva avuto ancora la giochere contro di noi No ma che ha fatto? Vabbè è resa visibile la palla Ma io ho messo la potenza e li lascio fruttata Papà stu qua ti rimonta in 17 minuti Papà stu qua l'aveva vinta 4-4 Semen No 4-2 13 secondi Fratello non scherziamo Oh No Ma quanto è grande? Poi 6 No 4-3 2-2 1 Ciao amico Ciao Ciao amico Questa la condividiamo di corsa Papà Ma come scadiamo posizioni Siamo arrivati a 12 Papà Se ci troviamo altri 4-5 Abbiamo battuto Semen 4-2 Questo siccome ci aveva pure un mare di amici Allora direi che lo scorre è mostruoso Condividiamo C'è papà Abbiamo battuto Alleato all'autario Semen Abbiamo battuto All'autario Semen Ragazzi quindi se il video vi è piaciuto Aspetta E' il pacchetto gratis Quello possiamo fare? Apri ora E' il pacchetto comune Eccolo qua che è uscito Dai mantieni i premi Basta Aspetta Ok Aspetta Ok Pure qua ci devo dare un premio 160 punti Ma questo ce lo deve dare Ottieni il premio 30 diamanti Parcchetto raro Parcchetto raro Lui c'è dato un sacco di cose Papà Papà E' un po' di pacchetto comune C'è? Guarda C'è papà Quello che abbiamo battuto 7 a 4 Aveva 21.000 fan Noi? E noi 13.000 E noi 13.000 Poi quello che abbiamo battuto 3 a 1 Aveva 8.000 Noi 13.000 E cose che abbiamo battuto 4 a 2 Che era serbo Aveva 20.990 fan Ma da quante cose Ma queste cose dobbiamo ricevere gratis? Sì gratis Abbiamo fatto il pass Wow e perché non ce le prendiamo? Perché non ce le prendiamo? Poi mi dicevi un incremento fan Ma che tua abilità? Guarda mi faccio il pacchetto gratis Vediamo che mi esce Poi Dicevi Pacchetto comune Tutte queste cose non ce le avevamo prete Perché non dici cose? Ho comprato una nuova persona Quanto cosa ti ha regalato? Papà ho sblocato un nuovo personaggio Biglietti fili per 30 minuti Non ce le prendiamo E ce le prendiamo Non ci serve Papà Ho sblocato una persona nuova Non ho sbagliato Ci siamo presi queste cose inutili Vabbè ragazzi Se il video vi è piaciuto Mi raccomando iscrivetevi al canale Sempre 096 Metteteci un bel like Io sono Papi Noi siamo Ci vediamo al prossimo video Abbiamo giocato a mostro Ci avremo un sacco di Un sacco di cose Secondo me Papà abbiamo 13.000 fan Guarda Dove sta? 13.000 follower 14.000 14.000 Ciao al prossimo video Ciao Ciao Ciao